L'estate è ormai alle porte, fra un po' esploderà definitivamente il caldo e siamo a Taranto in Viale del Tramonto, verrà presa d'assalto dai bagnanti, dai cittadini, visto che è una zona in cui finora almeno la spiaggia è libera, l'accesso è gratuito, ma già da ora vedete tutta questa poseidonia, volgarmente detta, chiamata alghe, già sta praticamente ammorbando tutta l'area. Peccato che non si può tradurre in audio e in video il cattivo odore che promana. E insieme al qui presente collega consigliere comunale Massimo Battista di Una città per cambiare Taranto, abbiamo presentato una mozione che verrà discussa nel Question Time di venerdì 12 maggio, in cui vogliamo capire e proponiamo di realizzare un'alternativa rispetto a questa situazione, quindi il prelevare questa poseidonia, smaltirla secondo le procedure, c'è tutto il discorso delle biomasse, e quindi soprattutto far sì che la zona sia fruibile, anche perché se l'azione di rimozione di smaltimento non la si fa ora, che siamo ancora ai primi di maggio, poi con l'estate che esplode, che avanza, i turisti, ma soprattutto i cittadini che stanno qui, vivranno il dramma che hanno vissuto lo scorso anno e gli anni precedenti. Siamo a un punto di non ritorno Luigi, come ogni anno si ripropone la stessa situazione, noi con questa mozione, che mi auguro che anche la maggioranza la voti e sostenga la mozione presentata da noi due, venerdì in Consiglio Comunale, perché come dicevi tu, Andiamo proprio nello specifico. La puzza è nausea a bonde, qui oltre alle persone che verranno a farsi il bagno, qui come avviene ogni anno, ci troviamo a 50 metri da persone che vivono stabilmente, noi abbiamo chiesto, così come è previsto dalla legge regionale, di individuare le aree per lo stoccaggio, fare tutto quello che è previsto dalla legge, così come ogni anno accade, tieni conto che la legge ti impone a non usare cingolati, non si può andare sulle dune, non si può andare sulla battigia, quindi noi chiediamo a questa amministrazione che tanto parla, tanto decanto... Sciacqua la bocca col turismo. Siamo oggi 8 maggio, lo possiamo dire, 4 giorni dal Consiglio Comunale, la situazione come ogni anno si ripropone nella stessa maniera e ci auguriamo il voto e il sostegno a questa mozione, perché noi siamo per la risoluzione dei problemi, siamo per la gente che liberamente viene in queste spiagge, perché sono rimaste le uniche... Oasi libere. Oasi libere, perché qua si paga dappertutto e ci auguriamo che questa amministrazione... Vogliamo vedere cosa faranno i consiglieri di maggioranza, perché poi si assumeranno, votando, non votando la nostra mozione, si assumeranno una responsabilità pesante nei confronti proprio della città. Infatti noi stiamo prevenendo, stiamo annunciando alla cittadinanza intera che le mozioni sono state presentate, vogliamo che questa amministrazione, così come dice, dalle parole passi ai fatti. Ogni anno la storia è sempre la stessa, dalle immagini potete vedere che qui è un cimitino, perché parliamo di biomasse vegetali, è un effetto naturale quello che accade, perché le mareggiate le portano qui a riva, però ci sono delle leggi che ti impongono di trovare le aree per lo stoccaggio, se devono essere sottolineati. Come si fa in tutte le città civili, normali, non è nulla di eccezionale. Non è che succede solo a Tav, succede in tutte le parti del mondo. Comuni rivieraschi vivono questa situazione, non penso che a Rimini si vive così, no? Ieri per esempio è stata una giornata caldissima, io non credo che un bambino, guardato dalle immagini, guardate lì, sembra, io non lo farei mai... Ma quelle condizioni igieniche sono pietose, noi dobbiamo salvaguardare i nostri concittadini e sperando che venerdì questa mozione venga approvata. Vedremo cosa accadrà, ci auguriamo che avvenga così, un fatto però è sicuro che questa amministrazione non conosce la parola programmazione, perché se programmasse sicuramente non ci vedremmo costretti a fare queste emozioni che sono davvero... È un inizio politico che noi... Ma è assurdo perché rappresentano il minimo della vivibilità che l'ordinario che non sanno neanche assicurarci. Si spendono tantissimi soldi per cose inutili, questo è salvaguardare i nostri concittadini, quindi questa amministrazione quanto ha messo per la risoluzione del problema, io mi auguro che quest'anno preventivamente ci apprestiamo a vivere una nuova stagione estiva e mi auguro che questa amministrazione faccia quello che è dovuto dalla legge. Per ora siamo davvero in una città del terzo mondo.